Allora, chiaramente Sanremo è una grande festa e noi siciliani siamo ovunque, salvo, ieri devi sapere che io sono arrivato, ho detto faccio un'intervista e chi ti va da beccare uno dei carrapibi. Insomma, i siciliani siamo dovunque, hai detto bene, questo è un evento che attira e quindi noi addetti ai lavori, ma anche tante persone appassionate di musica, sono qui perché questi sono i giorni di Sanremo. A proposito di Caltanissetta, quindi un abbraccio a tutte le amiche e a tutti gli amici che seguono il Fatto Nisseno, ma stamattina ho fatto una bellissima intervista con Giuliano Sangiorgi, De Negramaro, e ovviamente abbiamo inevitabilmente parlato di Caltanissetta perché il suo meraviglioso papà era di Caltanissetta, ancora tanti suoi parenti vivono a Caltanissetta e Giuliano si sente veramente per metà siciliano e nisseno, perché poi l'altra metà invece è pugliese perché la mamma è di Lecce. Ma sempre del sud, sempre con il nostro... Sempre del sud e sempre, ripeto, con questa grande passione sua, personale per la Sicilia e per tutto ciò che è siciliano ma quindi, ecco, Caltanissetta ritorna. Grazie, salvo. Grazie a voi. Noi ti auguriamo un buon festival. Anche a voi, vi auguro ogni bene, put tu tu core. Put tu tu core. Put tu core che va benissimo, che serve, come dire, a dimostrare l'uno all'altro l'affetto, l'amore, la condivisione. Quindi grazie, grazie a voi. Grazie, buon festival.